È stato riconosciuto ufficialmente dal Ministro Lollobrigida l'Organismo Nazionale di Programmazione dei Consorsi Relativi alla Pesca delle Vongole. I pescatori di vongole italiane hanno deciso di unirsi e di costruire l'Organismo Nazionale di Programmazione dei Consorsi di Gestione della Pesca e dei Molluschi Bivalvi, con l'obiettivo primario di promuovere la pesca sostenibile, garantendo la conservazione degli ecosistemi marini e la tutela delle attività legate alla pesca delle vongole. Nutrita e qualificata la rappresentanza marchigiana con Gerardo Fragoletti di San Benedetto del Tronto e Nicola Paci di Civitanova Marche. Il Direttore Generale dei Consorsi Walter Graziani, eletto all'unanimità dai Presidenti dei Consorsi locali, è riconosciuto tra i maggiori esperti del settore e con la sua esperienza porterà un importante contributo teso a bilanciare gli interessi economici del settore e la sostenibilità ambientale. Al Direttore Walter Graziani, a tutti i componenti dell'organismo e in particolare a rappresentanti marchigiani Fragoletti e Paci vanno i miei complimenti per gli importanti incarichi che andranno a ricoprire, ha detto il Vice Presidente del Consiglio regionale delle Marche Gianluca Pasqui e i migliori auguri di buon lavoro. Vanno infatti a rappresentare una delle categorie più importanti del settore ittico e dell'intera filiera economica della nostra regione. Il riconoscimento dell'organismo nazionale da parte del Ministero è un'ulteriore conferma dell'attenzione che c'è verso il settore della pesca, sempre sostenuto convintamente anche dalla regione Marche.